Il grande numero dei femminicidi mette in evidenza che moltissimi adulti di oggi sono dei totali analfabeti emotivi. Gli uomini spesso non sanno accettare un rifiuto o vivono l'amore come se si trattasse di possesso. Le donne, d'altro canto, spesso scambiano comportamenti patologici come manifestazioni di affetto. La nostra generazione è davvero così perduta? La crisi di oggi è la crisi degli adulti, non è la crisi dei giovani. È l'epoca degli adultescenti, cioè di adulti che non riescono a crescere. Per combattere la violenza di genere bisogna agire sulle future generazioni e quindi sui bambini. Una responsabilità enorme per i genitori che devono crescere gli adulti del domani. Si parte innanzitutto dall'educazione all'affettività, cosa che probabilmente è mancata alla nostra generazione. Come possiamo agire per esempio per tutelare le nostre figlie femmine, per insegnare loro la differenza tra cosa è l'amore e cosa magari non lo è? I nostri figli imparano più da quello che noi facciamo che da quello che noi diciamo. Quindi non dobbiamo soffermarci sugli incontri, dai ora parliamo, sediamoci e parliamo. Ma i nostri figli imparano da quello che noi viviamo nel quotidiano. Ci osservano tanto e osservando imparano, sia nel bene che nel male. E' importante anche che abbiano dei modelli di incontro positivo e molto spesso noi questo lo diamo per scontato. Invece un bambino cresce con l'idea di avere dei genitori felici. Per quanto riguarda i maschietti? Sarebbe importante che iniziassimo a dire più no e meno sì. Genitori capaci di favorire l'autonomia, cioè di mettere i maschietti dinanzi alle loro responsabilità e di insegnare un po' più di equità. E cioè che se sistemano un letto non sono delle femminucce, ma sono semplicemente delle persone che stanno collaborando al vivere familiare. Quello che mi sento di dire, io sono pare di una bambina di 11 anni. Il mio invito è a scatenare i momenti di incontro. E per farlo abbiamo bisogno di mettere da parte in modalità aereo questo aggeggio qui. In un incontro, in un gioco con mia figlia, quando per una volta, solo per una questione di lavoro, non ho messo in modalità aereo, mia figlia, mentre giocavamo con lei a Barbie, mi ha detto, papà ti sei distratto. Ecco, credo che questo sia, per me è stato un grande insegnamento. Quel momento lì per loro è sacro. Ecco, credo che questo sia, per me è stato un grande insegnamento.